Allora Eva, innanzitutto, complimenti per la vittoria, bellissima, la prima storica in casa. Dopo i tre punti di Costa Volpino, altri tre punti oggi, cos'è cambiato nelle ultime due partite? È cambiato che siamo più squadra, ci aiutiamo l'una con l'altra e ci siamo sempre. Se una non fa l'attacco, l'altra copre, oppure c'è la difesa in più, quindi questo. Molto concentrati in difesa ed efficaci in attacco, è iniziato adesso il vostro campionato? All'inizio dovevamo un po' ingranare, siamo una squadra nuova, non ci conoscevamo e adesso stiamo trovando l'intesa, quindi sì. Adesso vi aspetto una trasferta abbastanza complicata sul campo di Brescia, però dopo questi due risultati si va con molta più serenità e quindi di conseguenza il livello del gioco potrebbe essere un pochino più alto. Quello sicuramente, anche perché comunque sappiamo che tutti gli avversari sono degli avversari difficili, dobbiamo andare sempre al massimo, quindi se dobbiamo andare a arrivare in campo è dare sempre al 110%. Ti faccio l'ultima, personalmente anche oggi una grande prestazione, sei soddisfatta di quanto stai esprimendo in campo? Sì, si può sempre migliorare, sempre. Sicuramente sto trovando anch'io l'intesa e poi a muro devo migliorare, sì, pian piano miglioriamo insomma tutti insieme. Bene, complimenti per la vittoria, grazie. Grazie.